fortunato colui che possa fare della propria passione un lavoro perché quell'uomo sarà un ladro non lavorerà un giorno della sua vita questa volta non potevamo trovare una un esempio più calzante di questa affermazione siamo in compagnia di riccardo zangelmi costruttore professionista certificato lego e le sue sculture sono state commissionate da aziende come adidas ducati unicredit e anche la nasa benvenuto grazie mille buongiorno a tutti intanto come prima domanda come si sente essere invidiato da tutti i bambini del mondo e anche quelli ormai diventati adulti non si sente un po in colpa nei nostri confronti in colpa no però insomma un grande onore per me poter fare poter rappresentare l'italia fare questo lavoro nel quale quotidianamente cerchiamo di dare il massimo per i nostri clienti per gli usufruttori delle nostre mostre ecco perché lo possiamo dire c'è adesso è tempo di natale nel cuore di ogni bambino tra tutti i regali che posso trovare sotto l'albero quello più invitante diciamo è una scatola di lego è quasi quasi che la la cosa più bella del regalo non era solo smontare il non era solo montare il pezzo per per ricreare quello che c'era sulla scatola ma era subito dopo smontarlo per fare qualcosa che non c'entrava assolutamente niente con quello che c'era disegnato però naturalmente una cosa è montare un pezzo lego in una scatola durante le vacanze di natale con i nonni è una cosa essere certificati dalla lego e come ci si diventa beh guarda si diventa certificati partendo proprio da lì da bambini nel costruire lego per e poi smontarli come proprio tu dicevi e ricostruire con la propria creatività qualsiasi cosa si possa passare per la testa quindi io sono nasco proprio da quel tipo di scuola lì e ad oggi insomma essere riuscito a farne il mio lavoro è un grandissimo privilegio per me sicuramente non ti nego che a 30 anni ho ripreso a fare lego e proprio stavo cercando un regalo per mio nipote quindi proprio sono entrato in questo in questo store dove ho rivisto i lego e di lì è riscattata la scintilla di quando ero bambino ho comprato un set per lui un set per me e di lì ho iniziato a ricollezionare lego montandoli con le istruzioni quindi sono ripartito da quando dal rimontaggio con istruzioni poi per cui un bel giorno avevo acquistato parecchie set e ne avevo tanti montati e ho detto no fermo un attimo ma siamo capaci di costruire qualcosa da soli come facevo da bambino e ho detto ci provo ho smontato tutto e di lì ho iniziato a creare cose mie e subito discrete poi sempre migliori nel tempo anche perché poi acquistando sempre più pezzi avevo la disponibilità di più materiale e la qualità del prodotto che ne usciva era migliore nettamente superiore quindi questo è un po' il mio percorso quindi il mio essere qua deriva da questa storia ecco un altro problema che mi ricordo da piccolo è che ogni pezzettino cioè durava pochissimo cioè un giorno poi si perdeva nel suo laboratorio non so come come definirlo come sono selezionati come sono categorizzati guarda noi abbiamo uno studio abbastanza grande dove abbiamo più o meno 5 milioni di pezzi questi 5 milioni di pezzi sono tutti catalogati divisi in base al colori e tipo di pezzo quindi abbiamo tre tipi di magazzino un magazzino che usiamo per fare le sculture proprio che sono fatto principalmente in brick di mattoncini con tutti i toni di colori che la gamma lego a paletta e poi abbiamo un secondo magazzino che una volta finito il primo magazzino abbiamo questo altro grande magazzino dove ci andiamo a rifornire e poi abbiamo un terzo magazzino dove abbiamo tutti gli scatoloni che arrivano i bancali direttamente gli teniamo stivati lì senza andare a è l'ultima risorsa che andiamo a prendere quando abbiamo poi abbiamo un magazzino di pezzi speciali che è quello più difficile da organizzare perché lego ricordiamoci che produce oltre 4 mila pezzi diversi quindi per tutta la gamma di colori quindi capisci anche tu che catalogarli tutti perfettamente non è facile però è una sfida quotidiana anche per noi perché ci sono talmente tanti pezzi però insomma disponiamo in scatole trasparenti quindi noi vediamo all'interno cosa c'è cosa c'è dentro e sotto abbiamo un riferimento del pezzo quindi è tutto molto catalogato molto bene perché sennò sarebbe un delirio e la richiesta più assurda che ha ricevuto qual è stata ma da richiesta di rifare un appartamento con pavimenti con le docce con tutto a alla rover che comunque prodotto di di questo calibro è una grandissima sfida quindi abbiamo spaziamo da 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 tutto come dico sempre io passiamo da una da una farfalla un elefante in scala 1 a 1 a un'auto da formula 1 a un'auto in scala reale quindi insomma siamo abbiamo la fortuna e la possibilità di riuscire ad avere un lavoro molto creativo e molto avvincente insomma ma per fare delle sculture di una certa mole perché cioè mi ha parlato di un elefante in scala 1 a 1 sono state necessari degli ulteriori studi per esempio strutturali oppure guarda io non sono un ingegnere non sono un architetto quindi non ho fatto studi di questo tipo sono un perito agrario che appassionato tantissimo di natura quindi il mio rettaggio è quello di studi e non ho fatto nessun tipo di studi sicuramente su certi tipi di strutture particolarmente importanti mi avvalgo anche di professionisti esterni alla mia azienda per poter avere stabilità sui miei prodotti sempre per rispettare cioè comunque i nostri prodotti sono tutti i prodotti che hanno delle conformità di stabilità strutture fatte apposta per l'antiribaltamento e tutto la la safety del del modello insomma ma anche nel trasporto cioè il trasporto della scultura da un posto all'altro cioè come avviene in cassa di legno guarda cassa di legno o palletizzate perché comunque tutte le nostre grandi sculture hanno dei basamenti in ferro alle quali sono unite alla struttura interna in ferro che abbiamo uno scheletro che permette la stabilità del modello e quindi vengono legati i basamenti e poi messi in cassa di legno ecco questo prima ci ha parlato di creatività in un lavoro come un suo quanto è importante questo fattore il fattore peter fan se dobbiamo chiamarlo quanto importante riuscire a mantenere la mente libera dalle bollette da portare a spasso il cane insomma dalle cose quotidiane beh guarda il mio lavoro è un lavoro molto creativo ma comunque a priori siamo un'azienda cioè la mia azienda brick vision con dei dipendenti con dei collaboratori quindi i pensieri della gestione di un'azienda che comportano sono non sono molto creativi perché la gestione aziendale non è creativa cioè è creativa fino a un certo punto sicuramente la parte la parte creativa io ogni tanto dedico alcuni momenti nell'anno per potermi concentrare su che cosa voglio portare avanti le idee butto giù nuove opere penso quindi questa è la cosa più bella che mi dà questo lavoro la cosa più importante poi dopo sicuramente anche il fatto di misurarsi comunque anche con delle sfide e di nella riproduzione di materiali oggetti che già esistono ecco anche questo comunque è meno creativo ma è creativo allo stesso tempo nel senso che riuscire a fare un rover in scala 1 a 2 o comunque una ducati o tutti i prodotti che abbiamo fatto le stazioni dell'alta velocità abbiamo riprodotto tra 4 stazioni a livello nazionale ci vuole creatività anche per fare quello perché comunque la mente ragiona in mattoncini lego quindi insomma devi capire che pezzi utilizzare per creare quelle linee quelle forme quelle geometrie quindi insomma è un processo creativo comunque ma è mantenersi la mente libera fondamentale per insomma fare al meglio questo lavoro oppure è il lavoro che sto per mantenere la mente libera secondo me ma io credo che quando almeno quello che succede a me ma che vedo che succede anche ai miei collaboratori quando costruisci stai creando inventando qualcosa entri in una dimensione un po strana cioè è un ti estranei da un po dalla realtà perché inizia almeno a me capita questo il cervello inizia a pensare solo a quello e inizia un meccanismo di estraneazione dalla realtà quindi il processo creativo è un processo che ha un suo percorso solitario e nulla entra quando almeno quando io sto costruendo creando qualcosa non c'è niente che mi distrae quindi è solo che pura creatività ma questo percorso inizia da un disegno oppure inizia direttamente inizia subito guarda io non sono un bravo disegnatore quindi non sono sono negato ogni tanto scrivo quindi sono più bravo a scrivere che a disegnare disegnare no io ho tendenzialmente credo dei prototipi mattoncini alla mano è il mio approccio un approccio che deriva dalla mia esperienza della mia infanzia quindi mattoncini alla mano con l'idea figurata nella mente si parte si va non posso immaginare quanto sia stato difficile portare avanti questo sogno chissà quante opinioni contrarie ci saranno state quante obiezioni eppure lei ha deciso di continuare di andare avanti la sua a mia opinione non è solo una una concretizzazione di un'idea ma è la dimostrazione che nel 2021 nonostante le norme la burocrazia e tutto il resto è possibile è possibile avverare un sogno la domanda che l'ultima domanda che le pongo è questa per tutti i ragazzi che ancora hanno il coraggio di avere questo sogno nel cassetto qual è il suo consiglio guarda io ho scritto un paio di cose che che sono i miei cardini nella direzione che sto portando avanti nella mia vita e nel mio lavoro ed una questa che ognuno di noi ha il dovere di sognare in grande nella vita il dovere che sembra una frase banale ma non lo è perché spesso ci diamo noi stessi ci limitiamo noi stessi limitiamo la nostra potenzialità i nostri sogni quindi io credo che se uno ha un'idea e un sogno debba debba togliere tutto quello che offusca la meta perché se uno crede davvero ecco si parla proprio di credere davvero in quel sogno lì io ho fatto così io mi sono licenziato avevo un posto in un'azienda solidissimo a tempo indeterminato ero responsabile quindi però ho detto io ci provo e di lì mi sono adoperato per per raggiungere l'obiettivo e tuttora continuo ad ambire non di fare di più di fare sempre meglio che è diverso quindi credo che i giovani debbano continuare sicuramente a sognare ma debbano mettere in pratica il proprio cioè realizzare il proprio sogno quindi bisogna agire ecco questo è fondamentale perché un sogno se non ha un sogno non segue un'azione rimane un sogno mentre se segue l'azione è facile che diventi realtà quindi mio consiglio è mettete in pratica i vostri sogni grazie mille grazie per il suo tempo e per le sue parole grazie a tutti grazie a tutti qui da radio fsc è tutto e buona giornata buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti